Salute e benvenuti a un'altra puntata di Voriadrogius Literarius. Salute e benvenuti a Igor Melis. Grazie, salute a tutti. Bene, Igor, noi c'è questa vaina di Igor, sul titolo Degustopira è sagrae e noi, e oggi, noi, di Vodau su questa trasmissione Degustopira. Intanto, se Igor Strogau su Melis assaggenti, chi è Igor? Noi, come dice tutto il libro, c'è questa vaga di biografia, magari una cosa, contasi da lui. C'è un nuovo gioco, e beh, no, 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 Igor è becchio, ma non ho dei miei, teni un anno con i miei miei, chi è? C'è un nuovo gioco di San Rocco, ho lavorato in industria, poi hanno su metà, e noi pure ho usato in sui settori industriali, però ho fatto in famiglia di agricoltori pure, ho posizionato una piccola azienda da che ci vede in domo, e continuavo a fare questo buro, e poi che mi sono dedicato ai conti su Vincenzo Degustopira, e mi sono dedicato ai conti su questa famiglia, nonna mia, che mi contò tutto, sui conti su The Vorredda, e quindi ho potuto, poi, la fortuna di intervistare gli anziani su Degustopira, e avevano tante storie che raccontavano, che non c'è scritta nel libro su, e quindi dopo ho fatto una ricerca in questa biblioteca pure di Bidia, ma la storia non ci indifia da me, e questa storia poi è stata tenuta tutta la ricotta ad entrerci sui anziani su, e quindi tramite questa storia ho potuto ricostruire un nuovo gioco per fare il romanzo, e poi ricostruire un nuovo gioco di Bidia, di questa gente, ho potuto ricostruire un nuovo gioco, spostato geograficamente pure, poi Cancuno non si invadi, e quindi poi è nato il suo romanzo, è nato in questa idea di industrializzazione del suo territorio, ma non scelto in questo territorio, ma in realtà in questo territorio di tutta Sardegna. questo romanzo nasce nel 2012, dunque è stato fresco, fresco, e ha mostrato da Puligio, ha mostrato tutto il suo amore, che ha detto, da parte di tu, 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 da parte di isola, dei luoghi su cui il personaggio fa i movi, in questa Bidia, in questa monta, c'è su bestiamini, c'è su bestiamini, c'è su bestiamini, e finché sono delle schistioni di questa industrializzazione, in questa Bidia, lompiti, e fai finché se calinco uno danno, e c'è uno personaggio che è il suo protagonista, in calinco una maniera, è Gigino Buttino, contasi di Gigino, questo amico nostro. Gigino Buttino è un pastore, c'è su bestiamini, e poi nasce l'industria, e, naturalmente, non si fu un posto di accordi, poi, quando è arrivata l'industrializzazione, questa gente non ci creia, da parte che si scappava sul mondo, sul mondo, accabava gli agricoltori, gli allevatori, e quindi, in realtà, cominciava una battaglia, poi, ci crede non abbandonare questa terra, e questa battaglia, però, diventa perdita, e Gigino Buttino, me da risentivo, finché andavo in pari a un amico, che vi dà, a Monti, io avevo, appicato questo metà, e io avevo ristrutturato, e io ho spostato tutto il suo bestiamino a Monti, e poi andavo, andavo in Monti, un po' bintannoso. E poi, una dì, io avevo, e poi andavo a Sazorri, che ha fatto il fatto, andavo su, e poi, andavo sempre in un bel rapporto, e Sazorri ha portato le novelle che ci viene in bidea, no? E io ho ascoltato il mudo, non andavo nudo, e ho ascoltato il bastardo. Poi Sazorri... Ma Sazorri ha raccontato, non fu una cosa che aveva conto, non fu una cosa che aveva conto, anche se aveva un porto umano. Poi tanto ora era... Si dà di, si dà da conto, e poi, in un pensamento su questo, si incresa a mangiare, c'è la bidea, e c'è la bidea, e quindi vai di, questa strada lunga, questa strada degli antichi minatori, e boscaioli, e fai questa strada, e poi c'è la bidea. Poi ti vai questa strada a bidea, poi ti è timido, che entro dei settotti, non ci davanti a continuare a battaglia. Invece, su Vogo, via da Sabra, Giabella, via da Azut e su Ginigio, e Sazorri ha dato... Su Varri Varri, che ti cura. Sazorri ha dato il raro a pillo. Per sai bene. E quindi, il suo cala da Sabidda, poi intendi i tre succedenti. Scegli, il suo percorso, in questa strada, che vai di poca lei a bidea, questo si è bene, che non ha dei vaccini. Però poi, questo è una grande rivincita, ed è da più provare. Questo che hai da Merao a bidea, a Pustisi del tempo su Mera, e finché se è un viaggio, non è scelta una cosa fisica, come ti racconta un suo romanzo, ma finché se non torri a Gou, un suo pensamento, a quello che ti chiede a Contessio, anni e anni in antesi, a Bussinara, a Bussinara, a Bussinara, e in alcuna maniera, si accapa, si allombra, e a Sabidda, a Bussinara, a Bussinara, e a Bussinara, provocae in un vaghello, i sagrosi rari dei lettori, si vota sul compito delle trasmissioni, e finché se è questo, ci vunti in tre mesi, questo conto, finché se è un personaggio, che a me mi prego, mi prego me la finché se è del principio, Sommini Umbra, l'uomo ombra, non ti prego, tu chi ne sei? Anzi, si si nau, lì c'è questo libro, ma vina sa sottima riga, la vai da non si verdi, ma sa sottima riga, e sa comprendi, voi c'è un desidio, chi ne è questo Uommini Umbra? Questo è una specie dei Vendicatori, uno zorro sardo in biglia, e realmente esiste, poi ti ho altri conti, su dove andate a pagare la scrittura pura, e io intrate in scena, in questa storia, quando nessuno si deve, quando si ammattava, si va per un legge, non c'è, non c'è una via proprio, quindi Bessiri è su Intrada, è uno Vendicatori e non è buono, poi ti può raggiungere il giusto, se comunque mangiare che anche uno vatto non bello, è poi una giusta causa, un po' su bene di questa biglia, un po' su bene del suo territorio, è uno personaggio che ha incuriosito sempre, a me è vero, quando mi dà ti contare, gli anziani, poi si andava a fare una ricerca, ma ci vi appago, però c'è anche una cosa da pagata, esiste il diaderus, non ti mai scropetto, poi in realtà, di chi ne via da diaderus. Cosa su chi sa giustizia, appustisi, non me ne raccomanda, reati insoluti, cosa che non... Sto che la sera è questa causa, non ti comprendevo nulla, però avranno mancare i morti, avranno fatti, accontesti, nessuno sa rinesce, da spiegare i commenti, e poi, segui, segui, segui. E poi, poi tutto questo, in questa misura, di cosa succede in suo territorio. Poi, quando arriva da se industrializzazioni, è arrivato su di noi pure, e su di noi a comprare gente in meta, e cosa su che fonti, si fonti, antaboccao, fonti stetti posti, su di un luogo, su di un comando, e giustamente, poi, questo sul luogo del comando, ha arrivato, non su bene del suo territorio, non su bene del suo popolo, ma ha arrivato su bene dei industriali, sì, ma questo è un evento, che devo apposicchio, 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 apposicchio politico, apposicchio politico, questo devo apposicchio sempre, in ogni luogo della Sardegna, a 11 via delle industrializzazioni, dei porto torres, auttana, dei porto vesme, fino a San Rocco, ma torrenta qua, quando ci vengono in miniera, quando ci vengono operativi in miniera, e tutto, a 11 su di noi, a 11 su botteri, a 11 su interesse, è più facile a comprare i saggenti, saggenti, è più facile che ha mostrato i sui prezzi, o no? girano, tra le subite di atteso, questo devo apposicchio sempre pensare, e quindi, un po' combattimento con sta gente, non è semplice, non è una cosa, in Sardegna, sei via, quando l'industria è andata, nei luoghi, sui territori, si t'allassava, no? E con mente, non si riesce a ricostruire un'economia tuttora, oggi, in Sardegna, non teniamo in mente un'economia, non teniamo, teniamo in mente ancora, forse si torna il tuo pericolo, con l'industria, o forse si torna l'ampliaio, o forse si, la, planta il suo barbabietola, che forse si fa l'energia, e in realtà, di voi, a Savini, io la toccai, a comprenditi, a dire, i suoi cari, esso, su, su, sui grazi, del suo popolo, sardo, non ho mai chiesto, del suo territorio mio, in me, da, che anche leggo il suo libro, mantinavo, l'acqua, questa cosa, è, di usubivare, in suo territorio nostro, e di usubivare, su ogni addio, in suo territorio nostro, e questo, questi, sui vendicatori, e questo, che i museoi, apolli, tutti, inibili, immaginando, una cosa, più bella, uno, una cosa, più prosperosa, e purtroppo, se ancora, ah, aicci, se ancora, a buca uvetta, tipo Billonello, aspettando, aspettando, che alcune cose, che alcune cose, si contano, pure, di attovi, su, di una partecipazione, democratica, di gente, che muove, del domo, partecipa, si impegna, chi si fu, ed era, voi, sattro, su, di certe, c'è qualcuno, che dimmi, di pure, a contesta, invece, c'è, 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 accadere, semento, su, vago, bello, su, chiesi, chiesa, lì, però, c'è, vincere, come, della pubblica, vincere, come, uno, con biru, sul libro, cosa tua, vincere, a besti, del domo, si fa i carri, de, de, sa, societari, del suo, mondo, di, modenti, ma, c'è, cosa, puro, de, tu, fai, moda in osa, commenti, boreuso, mi pare, che, in gusto, a tobio, in gusto, oratorio, de, gusta, bidda, stiamo, vincere, gente, in, no, su, benidori, nostru, reuso, vrai, gai, noso, vota, depintarsi, issus, ancora, cumandai, e sta, ic, o ha, po, compreni, umani, sta, ic, devo questa cosa, da, po, bivie, in prima persona, che andò, in bidda, dopo, anno, se, anno, se, torrata, nasce, un'associazione ambientale, e, se, prima, riunione, era fatta, proprio, insoratorio, ed è, questa, cosa, da, boffi, a riportare, in suo libro, poi, dopo me, è avviata una cosa storica, e, questa, cosa, in sabita, ha posto, curiosità, e, manca, anche, una speranza, puro, di migliorare, essa, cosa, e, invece, ha, trovati, preoccupazioni, ma, gustu, sui, ta, olinti, olinti, sarrai, s'industria, olinti, vai, e, invece, quando, questa, cosa, democratica, se, non partecipa, su popolo, olinti, che c'è, uno miglioramento, da, vai, niciuno, suonara, oiga, un'economia, de, sabita, de, pidesi, stravolta, ma, ma, tutto, su, pensau, su, de, migliorare, passo, passo, una, cosa, oi, una, cosa, grazie, una, cosa, gusti, a, migliorare, tutta, sa, cosa, posso, bene, dessa, popolazione, possa, saluti, possa, ambienti, e, quindi, devo, vi mandavo, a questa riunione, fimo, pure, in questa associazione, un'associazione, che, ancora, cesti, e, quindi, devo, questo, questo momento, da, po', bivio, ma, di, che, questo argomento, sia, di, aderlo, su, una, traborta, de, moda, fue, de, ambienti, fue, de, de, partecipazioni, fue, de, sviluppo, no, sin di, di, de, de, si di, de, de, atraporto, comente, mancare, a, con, se, ne, sanno 70, 80, età, divari, comente, mudente sul mondo, questo, è un momento, prima, dessa, pandemia, era un momento, buono, possambienti, impariata, che, c'è, da, un, cambiamento, poi, dopo, con, sa, crisi, sa, crisi energetica, e, cus, guerra, e, Con questa altra cosa, se io uso il lavoro, appunto, appunto a capo, non uso il fatto basso, soprattutto quando uno si narra da, dopo esistere la nostra guerra, la nostra aria condizionata, uno poco si va di attimi, questa gente si va di attimi. Invece, io uso dopo esserci sempre di migliorare, non dobbiamo mai, mai si dobbiamo mai di questo miglioramento, che siano le condizioni del lavoro dei operai, che siano le condizioni delle popolazioni, che siano le situazioni di sinergia, che sia tutto questa cosa, non so dobbiamo sempre migliorare, dopo su puntaia migliorare, non asserrai, asserrai quando su meri oli di serrata, non c'è nulla e fai, quando non dicono bene, inutili ci siano le associazioni ambientali, se o it, su meri di noi, se economia sua è basata, scelti in cui si siano le utili. Un altro argomento bello, se andava a ducicare, è questa sorri, Anna, Anna Buttino, che fu rambida a andare venire con una Panda, Fiat Panda, a Rubia. Io so dei reghi, su fatto che tu la persona scioverà una Viat Panda, su fatto che sia la Rubia, non è tutto debba, però devo lasciarvi a tui, come ti darsi disegnare, uno scrittore, il personaggio, sulle caratterizzazioni, sulle immagini, magari ti sei fatto una scheda, non riuscivo, come da si traballare, però Anna Buttino, delle caratteristiche che sono state in Porto, voi te non è protagonista, però Anna non fai raccontare, che è una dei Anna Buttino a parlimento mio. Anna Buttino rappresenta da questo che è il matriarcao di Sardegna. Il suo impago fu eduso convincente di sovrati, convincente di angioledio, convincente di tutto. Il suo con la forza delle femmine, i femmine, i femmine a Sardegna, questa non è nascita a dibagare il suo coraggio, questa non è nascita a fare cose che non hai mai pensato di fare. Poi dopo il sapuro c'è una rivincita di Sardegna, e manca io la da bene in me e da sovrati, lo spingiti a questa battaglia. uno spingiti a questa battaglia dei sapuri, uno spingiti a questo popolo, uno spingiti a questa battaglia. E ci chiedete di proteggere i sovrati, ci chiedete di proteggere i amici, spingendoci, però, lo spingendoci a questa battaglia. C'è questa cosa che non è risolta, questa cosa che si fa il disincubo, e l'asta da sempre pensiero, poi non c'è rivincita, no? Ognuno dà nascita, quando perdesse una cosa c'è sempre questa specie di... questo Moriginio che dava la intro. Poi è capitata l'occasione di questa rivincita, e Savini ci provava su un uomini di 70 anni, e ti tengo da perdita, e non... a su manco ci provai. accontessi di fatto, insomma, di Gigi Lovutino, e... Anna, non ti è mai lontano, e già ti è tutto, se non so se lo leggere il suo libro, non prendere i mail, ma c'è un accadessimento, di capire l'insabita pure, del fatto che non ti è in porto a mano, può dare il suo conto, può dare la storia, ma in me, accontessi in teatro, di una gravidare, ma anche, va manco il tica, ma una mera, e... Anna di esti, di l'ompili, comprendere, indittara, e... a giurara, andessi de meso, e Gigi, non ti fai una battalla, lo comprendi, ma... Sciro vincere il suo amico, di Gigi Lovutino, che comprendere all'estero, i testi, voi capitai, e... alcuni, il suo conto, che era proprio una, una forriara bella, e cominciavano a comprendere, forci si a comprendere, come ti andavano a capire queste cose, se forci si, vuoi il tuo commento, e saponare, innanzi, toccare ad un liggio, questo conto, vina a pagina, 190, 194, se non c'è, 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 e... Igor, adesso, questo è un romanzo, è vero, ma... tu hai fatto circa storico, non sei uno storico, sei appassionato di storia, e questo, il raballo, la vai, nascere vincere, nel senso della biblioteca, nascere nel campus, nascere nei gruttas, nei gestos archeologici, ma devo, ti amo l'intento, capito su questa storica storica che hai fatto, poi tu hai visto che abitavo proprio nella biblioteca, se sei andato a cercare cose che ti serviva, e tu hai ragione, e tu hai ragione, e tu hai ragione, a lavorare. Allora, devo, tanto, sa fortuna di leggere un libro che tenia il suo prete, uno prete che ci viene da in Bidda, e... andi ci viene da scritto da un po' meta, cosa che succede da in Bidda, e quindi, ho gli antiseminali, tali dati, ho il tuo diario, una sorta, una specie di diario, che vi ha da, e poi, 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 fortuna, poi, ha una pagina, quando dice, vi ha scritto il mondo, i monti, si fonti sparissiasi, poi, poi, c'è anche una gita, su prete, non scrivere un nudo, torna da scrivere, dopo, costatisi, narendi che ha, un uomini di Bidda, vi ha taggata un motto, a fontana manna, molto, vi ha molto, dei moti naturali, però, cosa, in cosa dici, andi, non ha scritto per un nudo, e, quindi, devo, se andavo, in biblioteca, poi domandavo, e, ma ti donavo tutto, a disposizione, poi, non ha pagato nudo, e, quindi, se andavo, a facci manna, a intervista, gli anziani, qua, ci vediamo, gli anziani, e, non mi dà, a passare mai, che, non mi, non mi, non mi ricordo, chi mi, in questo momento, ma, se andavo, quando mi, non mi, ci, 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 no, ci, 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 che non ne sono mai conosciuto, e ci sono tanti disini, che si sa dire che si è freddo, o che si è freddo, o che si è freddo. In alcuni poi ho capito che questa storia ci ha perduto, poi nessun libro di storia ha riportato certi argomenti. Poi può essere un po' che non scrive nulla, oppure non ha ranta, o non ci pianta in mezzo se può scrivere, e quindi se ne avessi un romanzo magari non avessi anche un altro puro. Spera uso, ci sono nomini dei lettori, che avevi già lì, e magari avessi già avuto un altro. Mi piacerebbe che questa festa intervistata, ora è stato un po' che scrive, ha registrato, come ti ha già avuto? Anche ho avuto un po' che ho scritto, e ho avuto un po' che ho registrato, ma a fine quando ho messo posto a scrivere, io non ho avuto né ascoltare la registrazione né che ho avuto il suo foglio, io mi ricordavo bene e mancai quando ho messo dei ingoni, se emozioni, ho chiesto, non mi ricordavo. e quando ho andato a visitare il Logos che descrive il suo libro, i particolari mi ricordavamo. Poi quando ho messo posto a scrivere il libro ho avuto un po' che ho avuto e ho avuto un po' che ho avuto una cosa, uno particolare, invece che un altro. ma al suo momento il commento in Conca ha registrato tutto e poi quando mi sarei più, ho detto a Ravessiri. Ha trattato sul suo libro che mi ricordavano dell'ediano, se mi ero preciso, in certe cosa si è stato preciso, mi ero proprio puntigliosa, una cosa e non di una altra. Però questo tu vorresti fare, tu conosci, il Logos conosci bene i dia dei russi. E io ho guardato, in attesa dei lettori, che ho usato, dei commenti che tu conosci, che tu non conosci, che tu non ti senti su dei d'uso. Però, tu hai già dato via o meno, poi ti hai fatto presentare questo libro in una scantola di un'analisi. Com'è il testo che tu hai con i lettori? Chi ti ha avuto i lettori di questo uso e ti ha avuto? Allora, i lettori di ogni classe sia dei dati che dei uomini e delle femmini e dei mestieri puri. Questo è un punto curioso dei scelri. Ma questa cosa che a me ogni volta mi lascia sempre un pago mi lascia questo commento che tu puoi fare, questo un pago di movimento a Intrus è che mi domandano ma di avere su in vita tua c'è tutto il gusto? In verità questa vita non esce questa raffineria questa vita è un grande parco archeologico questa vita è un domo storico bellissimo questa vita è un parco questa vita è un monti è un grutto è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa questa vita è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa non c'è questa raffineria e quando ho visto un'altra cosa è un'altra cosa tra me e me penso non ci sono mai un'altra cosa se fai comprendere questa gente che questo rock è altro questo rock è soprattutto cioè prima è altro e poi c'è l'industria questo l'ompia questo l'ompia dopo il tempo era e quando ho contato queste cose inizia però in questo momento ho visto prima un po' di contare queste cose pura se vuoi dare e se ascoltare non è stato un'incontrazione che può essere sempre pensare questo oggi ho visto anche con una iniziativa che ha avuto iniziativa che ha avuto delle amministrazioni recentemente di questo proprio se ci vuoi fare qualcosa è già un passo sul miglioramento questo proprio passo dopo passo si vuole fare questa cosa sono contento però c'è tante ancora e l'impegno penso di non sbagliare l'impegno di Igor che ha fatto attività in sociali ambientalismo politica seguire con questa letteratura avendo questo lavoro di scrittori che non è un lavoro un po' di bifo ricordo di fare un altro ma non è un lavoro ma non è un lavoro non è un lavoro ma non è un lavoro ma non è un libro improntato di amico libro non manca pagare 200 pagina ma non è un numero molto 200 pagina non è un libro facilitario tre o quattro ore sai che si vanno proprio è che a Pustisi di un capitolo non mi dico altro a Pustisi di un capitolo ancora poi si comprende i tavari gigino i tannara c'è se vince se non rimane che vince sempre le elezioni altra cosa non si rinocca sul libro se non cosa cosa fare noi igor grazie a Samera mi ha fatto un dialogo del messo spittau è un grande onore con me questo è un grande onore per sagrare e per sabbia mia che si usi noi con la speranza di mancare con il prossimo con la speranza di migliorare sempre questa cosa in tutta Sardegna grazie a Samera a tu e grazie a il pubblico del letterario sintonizzato su televisori in canale 40 per la trasmissione adios di sintonizzato 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 su parla di sintonizzato con sintonizzato su l'escriz Grazie a tutti.